E' stato presentato questa mattina al tenente onorato di Bocca di Falco il nuovo attaccante rosa-nero Kyle Afferti. Il bomber nord-irlandese, reduce dall'esperienza al Sion con Gennaro Gattuso, vanta numerose esperienze nei Rangers di Glasgow. L'attaccante approda nel capoluogo siciliano con l'intento di riportare, con i suoi gol, il Palermo in Serie A. Ho seguito la carriera di Gattuso durante i suoi anni di attracciatore. Lo sente come un simbolo, ci siamo incontrati lo scorso anno a Sion dove abbiamo lavorato bene quando mi ha chiesto di seguire il colonomino. Gattuso è uno che vuole sempre il 101% in campo, che viene a sempre dare gas nei suoi allenamenti, non saranno mai i giorni facili quelli per noi sul campo. Me lo ha sempre detto di dare tutto e è quello che stiamo facendo in OIT in questi giorni. Sì, abbiamo ricevuto diverse offerte anche da diversi paesi, ma la volontà di seguire Gattuso ha avuto la meglio, avevo una buona situazione e c'era grande rispetto tra noi, quindi ho sentito che era la decisione giusta per venire per fare. Quando ero un ragazzo mi guardavo molto la Serie A in Zambiaga, quindi conosco il vostro calcio, penso che sia fantastico e so che è molto facile. Chiaramente la B sarà un campionato molto diverso, ma tutti mi hanno detto di dare il massimo proprio perché sarà un campionato duro e il nostro obiettivo deve essere quello di tornare nella Serie A che occupavamo noi scorso anni.